benvenuti sul canale stilograficamente il canale riservato al mondo delle stilografiche quella che vediamo oggi è un aurora 888 serie stellar e in particolare questo è il modello sole dedicato appunto al pianeta sole pena realizzata in auroloide con rifinitude placate in oro di cui esistono è una serie limitata solo 888 esemplari al mondo questa penna è deliziosamente realizzata con un meccanismo a stantuffo vedete la finestrella dell'inchiostro in questo momento ho deciso di caricarla con uno splendido diamine autumn oak quindi quercia d'autunno mi è sembrato appropriato data alla stagione in cui è realizzato questo video e anche per la tinta in sincrono con il corpo della penna un piccolo doveroso inciso riguarda l'utilizzo di questa penna come dicevamo prima è a stantuffo come dicevo prima è a stantuffo quindi si svita il fondello facendo discendere lo stantuffo laddove doveste esaurire l'inchiostro l'aurora in questa serie la serie 88 quindi anche la stella r888 monta un meccanismo che loro chiamano riserva magica per cui anche a fronte dell'esaurimento dell'inchiostro non preoccupatevi vi basta svitare del tutto il fondello della penna per liberare l'ultimo inchiostro rimasto nella camera e riuscire a completare la vostra pagina senza dover o ricaricare la penna o dover aspettare prima di poter finire il vostro scritto era doveroso è un meccanismo che sinceramente per chi viaggia trova molto comodo e vi avvisa che state per terminare dell'inchiostro vi dà la possibilità comunque vi avvisa perché il sintomo è quello di aver terminato l'inchiostro la penna non scrive più nel momento in cui svitate il fondello liberate l'ultima carica questo lo trovo veramente utile a differenza di altri che non provano non trovano questo meccanismo di fondamentale utilizzo però evidentemente si spostano poco con le stilografiche se si spostano si spostano con le boccette in tasca cosa che non consiglio di fare a nessuno detto ciò proseguiamo con il resto del video pennino aurora 18 carati parliamo comunque di un ottimo pennino e questa questa penna l'ho acquistata da casa della penna napoli di cui vi darò i riferimenti nella descrizione di questo video vediamo un po' quali sono le caratteristiche di questa penna alcune le abbiamo già dette passiamo alle dimensioni 13 e mezzo con il cappuccio chiuso priva di cappuccio andiamo sui 13 centimetri con il cappuccio calzato anche se vista da serie limitata non ve lo consiglio per lo meno non per lunghe sessioni perché rischiate di intaccare il flusso ed è davvero un peccato io lo faccio solo per dovere di cronaca 15 centimetri e 2 comunque con molta cautela come potete vedere e per quanto concerne il peso di questa penna lo andiamo a vedere subito è pressoché vuota non del tutto però siamo sui 21 grammi 77 una penna mediamente leggera comunque e devo dire che è un ottimo oggetto con un ottimo strumento di scrittura vediamo come si comporta su carta rodia preferisco non sprecare inutilmente fogli per cui per il momento lo lasciamo dov'è allora questo è il modello 506 della serie 888 quindi stiamo scrivendo con una aurora 888 sole pennino 18 carati oro effettivamente i carati si si assegnano anche al palladio o altri tipi di metallo utilizzato inchiostro con cui sto scrivendo e diamine autumn oak vediamo quant'è bagnato il rilascio dell'inchiostro piuttosto generosa come potete vedere e su questa carta non ci sono segni di spiumaggio facciamo una piccola prova di variazione di tratto anche se premerò veramente poco quel tanto che basta ad aumentarne lo spessore non sono penne dichiarate come flessibili dall'aurora però con la dovuta attenzione si riesce sia a ottenere uno shading veramente delizioso sia a ottenere una lieve variazione di tratto lo shading per ricordarlo a chi non dovesse saperlo è una variazione della intensità dell'inchiostro da una sfumatura più chiara ad una più scura dovuta alla differente al differente rilascio d'inchiostro da parte della penna solitamente per una pressione maggiore o per una sosta maggiore in quel tratto di scrittura quindi come potete notare è un inchiostro che offre delle gradevoli sfumature che vanno dall'arancione al marrone chiaro vivamente consigliato con questa penna soprattutto in questa stagione esistono altri inchiostri simili ne sto aspettando uno dal dottor stephen brown ancora non mi è pervenuto per cui intendo completare la recensione dell'autun oak che adesso andiamo a recuperare dal bellissimo il mio libro degli inchiostri eccolo qua la recensione di questo inchiostro è questa qui ringrazio ancora una volta l'amministratore del forum fontainpen.it di cui vi darò gli elementi nella descrizione di questo video del forum non dell'amministratore per avermi concesso di mostrarvi il template in uso in questo forum e poter appunto farne utilizzo per una prova approfondita della dell'inchiostro quindi in questo caso sempre rodi 80 grammi al metro quadro modello 16 quello che abbiamo visto prima poca anzi quel blocco note arancione penna aurora 888 sole quindi potete vedere in maniera più estesa come scrive questa penna e come potete notare non da skipping e questa è una caratteristica pressoché costante dei pennini aurora sono meravigliosi danno un minimo di feedback ma non vi abbandonano durante sessioni di scrittura intense il flusso come abbiamo detto vabbè qui ho messo più che discreto ma in realtà si tende al buono è abbastanza bagnato come pennino non da skipping quindi ottima lubrificazione un bellissimo shading anche senza volerlo in questo caso come potete notare ci sono varie sfumature la saturazione è più che buona non c'è nessun attraversamento carta persino c'è sicuramente c'è il fenomeno ghosting cioè vedo che qualcosa è stato scritto dall'altro lato ma come lo vedo per l'inchiostro lo vedo anche per le intestazioni del template quindi parliamo veramente di pochissimo segnale dell'altra facciata dell'utilizzo dell'altra facciata potete tranquillamente scrivere sui dati del foglio con questo inchiostro e questa penna non da nessun odore il tempo di giocatura ahimè è un po altino ahimè per noi mancini che dobbiamo fare ricorso al classico tampone con foglio di carta assorbente cioè sia il fratello grande che il fratello piccolino che potete trasportare con voi volendo fare una prova comparata questo è l'autun oak questo era un pelican un pelican smoky quartz questo era un diamine chocolate brown con una goccia d'acqua che deve essere di caduta sopra un jrban orange indian molto simile ma un po più chiaro una patch in sunset beh io non ho trovato sostanziale differenza tra una patch in sunset e il diamine in questione veramente una differenza sottilissima fermo restando che ho più dimestichezza con inchiostri diamine soprattutto su una serie limitata non mi arrischierei su una marca di inchiostri che ne ha realizzati alcuni che macchiano l'interno delle penne per cui parlo del base state blu è strafamoso per questo non è l'inchiostro che caratterizza ovviamente assolutamente l'intera marca però personalmente mi fido di più della diamine e ho scelto appunto l'autun oak pur avendo la stessa pressoché la stessa tinta dell'apaci sunset e anche variazione in termini di shading per quanto concerne la resistenza all'acqua dopo tre minuti possiamo dire che è una resistenza minima se non addirittura assente in questo caso ha proprio annichilito quasi del tutto il rilascio copioso di inchiostro senza dubbio un inchiostro da avere ve lo raccomando così come vi raccomando questa Aurora 888 sole forse fate ancora in tempo a trovare un esemplare presso il negozio che ho già menzionato e che trovate nella descrizione proverò a mettere un link diretto laddove dovessi trovare l'assortimento online non garantisco nulla comunque dovrebbe essere presente tra un po di tempo magari qualcuno vuole liberarsene sul mercato dell'usato quindi se vi dovesse piacere perché poi è un colore molto particolare se dovesse piacervi l'arancione giallo questa è la penna che fa per voi io sono ampiamente soddisfatto ringrazio gli amici della casa della penna di napoli che oltretutto mi hanno omaggiato di uno sconto del 10 per cento per il prossimo acquisto un imballaggio come sempre robusto è stata la prima penna che mi hanno inviato accompagnata da una bellissima biro pelican non era una stilografica ma è stato un gradito omaggio senza dubbio elegante brandizzato secondo la loro secondo il loro negozio però comunque non atteso quindi gradito a cavallonato si apprezza non si guarda in bocca ma si apprezza niente non voglio dilungarmi oltre grazie per la visione di questo video e direi alla prossima ciao a tutti stilograficamente parlando